Abbiamo il benestare? Allora ciao a tutti, in questo talk parleremo un attimo io e il mio amico Jekyll su treat monitoring come combattere il cybercrime diciamo insomma, come poter controllare la situazione in termini generali partendo da spam, arrivando a botnet, malware, tutto quello che concerne insomma al treat monitoring, cercando di vedere anche un po' qual è la situazione italiana in maniera un po' spincia. Breve presentazione, allora. Allora io sono Alessandro Tanasi, faccio ricercatore in campo di sicurezza, un pochettino in tutti i campi, dal penetration testing allo scrivere software, mi occupo di analisi forense, scrivo vari tool di security come OSMAP, SQLMAP e altre svariate cose insomma. Io sono Claudio, sono membro associato di Shadow Server Foundation in cui ci occupiamo principalmente di botnet tracking e di attività di questo tipo e lavoro come research analyst per i site partners. Quindi possiamo cominciare. Allora, il percorso che faremo in questo talk sarà vedere cosa è importante per noi, cioè quelli sono i nostri asset critici, quelli che interessano a qualcuno, ad esempio dei criminali, dei cattivi di turno, vedere come i cattivi di turno cercano di fregarceli e vedere come noi buoni possiamo monitorare i creativi con quali tecniche e con quali software e con quali infrastrutture. Allora, cosa sono gli asset critici per noi? Per noi utente normale, utente di casa, vostra madre, vostro padre, eccetera. Beh, innanzitutto le credenziali di accesso e le password a qualsiasi tipo di servizio che va alla Gmail, dal sito porno a qualsiasi altra cosa. Dopo, cosa che ci preme principalmente, è le foto che voi fate, ad esempio, che è un esempio tipico di documento critico riservato che voi memorizzate sul vostro computer, o quale può essere un disegno tecnico, un documento di ricerca, o i piani di dominazione del mondo, oppure è tutto quello che fate, non solo quello che possedete sul vostro computer, ma anche quello che fate sul vostro computer, cioè l'attività per cui utilizzate il vostro computer. Esempio primo è l'online banking, perché voi dal vostro computer accedete tramite browser all'online banking, tramite il token, tramite il vostro account. E inoltre il vostro computer, come mezzo appartamente fisico, possiede delle risorse e possiede, col suo collegamento a internet, una banda che è una merce di scambio comoda e che non è mai abbastanza. Tutto questo, e tutto quello che può essere, in generale, venduto a qualcuno, rappresenta il vostro asset che può essere fregato da qualcuno e utilizzato per i suoi scopi. Dicevamo, venduto nel black market, cos'è il black market? Il black market è il mercato nero del cyber crimine. Cioè, cosa si può comprare? Si possono comprare carte di credito, delle liste di carte di credito, delle liste di codici cvv, si possono comprare degli account Paypal, degli account di banking, si possono comprare e noleggiare delle botnet, cioè un insieme di computer zombie per i propri scopi, per esempio per fare dei clip su AdSense, per lanciare degli attacchi di DOS, si possono comprare delle macchine bucate, come si faceva, che ne so, tempo fa, che andava di modo di installare il re-offer IRC per distribuire wires su una macchina bucata. Si possono comprare dei phishing toolkit o dei toolkit di exploiting. Cosa sono? I phishing toolkit è una cosa molto banale. è uno zip con dentro dei file HTML e delle immagini che sono i siti mirorati di varie banche, di Paypal, eccetera, che voi utilizzate per mettere sul vostro sito di phishing, pari pari, uguale uguale al sito vero, semplicemente con la formina cambiate e con l'action cambiate. Oppure un exploiting toolkit che non è quello che voi magari immaginate come Canvas o come Core Impact, ma è un toolkit mirato ad attaccare e controllare un utente che naviga su un sito web. Inoltre ci sono dei malware builder kit, ovvero dei piccoli toolkit che permettono di customizzare un virus o un worm per le proprie esigenze. Potete comprare degli account sulle varie social network per utilizzare per i vostri scopi, oppure potete in qualche modo comprare del traffico da ridirigere in modo custom al vostro splice kit che avete comprato precedentemente. per aumentare il vostro portafoglio di macchine ruttate o la vostra piccola botnet. Qui abbiamo un esempio di Black Market. Sono in russo per cui si può capire velocemente. Questo qua è un post di un autore di una specie di remote access tool, di un Trojan diciamo, che viene venduto sui 5-600 dollari una tantum, fornito di web application, interface, tutto quello che può essere utile per gestire i vari Trojan deployati. Questo qua per esempio è uno screen di un personaggio che vende account di un banking o carte di credito di vario tipo. Non si legge molto bene, però se vedete un po' il price list, più o meno siamo su Bank of America con un credito dai 75-450 mila dollari, costa un 300 dollari per dire, insomma. E poi giù di sotto altri tipi di, non so, account Paypal, account Western Union e varie cose. Non si fanno troppi scrupoli, infatti se navigate un attimo trovate facilmente post per vendere carte di credito anche sui forum di Microsoft. Anche qui c'è un thread lunghissimo, si vede la scrollbar qua se vedete, non gliene frega un cazzo a nessuno, qua continuano a postare, vi trovate le listate anche di demo di carte di credito funzionanti. Poi qua continui te. Allora, adesso che abbiamo visto cosa interessa al criminale possedere, rubare e cosa ne fa, cioè come se lo rivende, vediamo quali sono i mezzi con cui persegue il suo scopo criminale. In primis c'è lo spam, ovvero le mail non volute e il phishing, cioè le ridirezioni a siti principalmente bancari o Paypal o dove in generale vi possono fregare soldi, come ebay, tramite degli url mandati per email. Dopodiché c'è tutto il mercato alle worth, cioè voi che vi scaricate da torrent o da emul un'applicazione, nessuno vi assicura che questa non sia troianata, cioè che oltre allo scopo a cui serve, dentro ci sia altro. Oppure la navigazione pre-presso siti malevoli che contengono degli exploit, oppure dei link agli exploit kit. Perché se il vostro browser è vulnerabile, un exploit kit potrebbe esploitarlo e prendere il controllo della vostra macchina in modo totalmente automatico. E questo ricade nella categoria generica del prendere il controllo della vostra macchina attraverso vulnerability exploiting, ad esempio se vi ricordate la vulnerabilità del bollettino MS08-067, che è detta così, ma magari non vi ricorda niente, però se vi dico con Flickr, è una cosa che è stata sulle testate di ogni giornale. Oppure attraverso metodi molto più becceri, come ad esempio il social engineering, o qualsiasi cosa che possa funzionare e possa convincervi per sganciare le vostre credenziali. Quindi queste sono le tecniche utilizzate per arrivare ai vostri asset. Al criminale non basta arrivare al vostro asset, il criminale vuole prendere tutto quello che può da voi e dalla vostra macchina. Ad esempio pensate, se vi viene compromessa la vostra macchina, il vostro server, potrebbe venire installato un proxy per navigazione anonima, potrebbe essere configurata la vostra macchina come relay, ad esempio per spedire spam, potrebbero essere installati dei servizi a pubblico accesso, ad esempio un FTP per distribuire WARF, per distribuire pedoportografia, potrebbero essere lanciati dei task CPU intensive, quali ad esempio dei cracking, di password, o più semplicemente, ed è quello che accade, il vostro computer che è stato ruttato diventerà parte di una botnet a cui verranno dati dei comandi distribuiti dal criminale che ne ha preso possesso. Cosa si può fare per monitorare i cattivi? Perché ovviamente ad un attacco di un cattivo corrisponde una risposta da parte dei buoni. In un ciclo di monitoraggio continuo che parte dal collezionare i vettori che sono di vario tipo, che sono dei binari, che sono delle mail e un sacco di altri, vedremo dopo, si passa alla loro analisi a popolare un database di trete, di minacce, su cui vengono lanciati dei task di reporting per trarre conclusioni attraverso la normalizzazione, analisi, correlazione dei dati, per trarre delle conclusioni a livello stratto, a livello globale che possono essere applicate. Questo in un processo di monitoraggio continuo, che è molto pesante sia a lato risorse, sia a lato lavoro umano, perché alcune di queste fasi possono essere fatte quasi sempre solo in modo umano, ad esempio il reversing di un nuovo worm. Ora vediamo il primo vettore che viene utilizzato per diffondere queste cose. Il primo a nascere è stato lo spam, sapete tutti cos'è, è l'invio di messaggi non voluti attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e di trasmissione, ci sia al giorno d'oggi, che non è solo l'email, è anche gli instant messaging, ad esempio Skype o ICQ, sono le social network, sono le VoIP, ad esempio se qualcuno si ricorda al CCC Camp di vari anni fa, lo spam del party di Italian Grappa, oppure sono i commenti nei forum, nei blog, sono vari vettori attraverso cui pubblicizzare il proprio sito, su cui si fanno delle cose non buone. Cosa si fa per analizzare questo? Beh, intanto bisogna procurarsene le mail, e questo potrebbe non essere facile, perché ci sono varie tecniche, si possono ad esempio utilizzare degli Opera Lay, si possono utilizzare delle Spantrap, e bisogna procurarsi più email diverse possibile, dopodiché bisogna analizzarle. Per analizzarle, prima di tutto, si va in cerca dell'email unica, cioè del nuovo campione da analizzare, iniziando con l'hashing della singola mail. Dopodiché si passa all'analisi, sia di header che del body. Negli header si possono trarre delle conclusioni statistiche abbastanza generiche, anche se sapete benissimo che gli header di una mail possono essere semplicemente spuffati. Mentre sugli attachment si collezionano e si inviano ai normali processi di analisi binaria, nel caso ad esempio questo sia ineseguibile. Dopodiché si cerca, nel modo più automatico possibile, di categorizzare lo spam, ad esempio creando dei pattern, nel caso in cui sia spam mirato a vendere Viagra, a pubblicizzare siti porno, o cose simili, e si cerca se altre organizzazioni hanno già tracciato questa mail, o il mittente, o il server smtp per cui questa mail passa, tramite le solite blacklist che conoscete benissimo. L'evoluzione dello spam è il phishing, ovvero spam targettato per asset e target particolari. Ad esempio, 10.000 mail destinate alla banca Antani, che recano l'url di un login falso della banca Antani. Quindi la situazione è un po' più difficile, perché bisogna anche analizzare il target di questo link, ovvero classificare il target. Ad esempio, sulla nostra infrastruttura di spam trap, passano il 10% di mail di phishing della banca Antani, il 20% di mail di phishing della banca Foo, eccetera. Fare il fetching dell'url malicious che è inserito in questa mail di phishing, per cercare di tracciare attraverso la forma evil che c'è in questa pagina, qual è il target, o anche cercare di capire da dove provengono questi phishing kit, perché come vi ho detto prima, sono sempre gli stessi che vengono venduti. Tutto questo creando un pattern molto semplice sulla pagina web, che è linkata dalla mail di phishing. Quindi, snapshotting e dumping dell'url, per fare l'analisi e creare il pattern. Eventualmente, volendo, uno può fare di questo url, può andare alla ricerca attraverso strumenti automatici, come phone IC, di eventuali malware o exploit client cyber per i browser. Può andare a vedere, di cercare di localizzare il server in cui queste pagine sono piazzate, per capire se non sarebbero compromesso. Perché ovviamente, avendo come obiettivo il rubare denaro agli utenti, di solito questo non viene fatto sull'hosting a vostro nome, chiaramente. Inoltre, come prima, se si trovano a dei binari, si mandano a un processo di binary analysis, che sono quelli classici che conosciamo tutti. Utilizzando tutte queste tecniche, in generale uno può riuscire a calcolare un risk level di un url e la reputazione che ha questo url di phishing. Quindi, con questo si chiude la parte di analisi di mail, che è il veicolo, il vettore principale di diffusione. Ma ce ne sono anche tanti altri. Come dicevamo, commenti dei blog, lo spam che ci viene inviato via CQ, i contatti che vogliono aggiungersi alla nostra lista sui CQ. Tutti questi vettori, tutti questi canali di comunicazione, possono essere analizzati e i dati estrapolati possono essere inviati a un processo di analisi che inserirà i dati in un database e li correllerà tra di loro. Questo è un dato di mail di spam giornaliere contenenti url italiani. Come vedete, c'è quasi un pattern. Anche se la scala è solo una settimana, quindi una finestra temporale abbastanza piccola, comunque vi assicuro che il trend è questo. Perché i cattivi quando trovano una macchina vulnerabile o fanno partire un task, loro lo fanno partire a mille, cioè a più che possono. Quindi voi vedete che nel pattern, qui probabilmente hanno deciso di inviare e di far partire un task di spam o di phishing, hanno avuto il loro picco e dopo sono scesi a normare il rumore. Perché ad esempio se voi aprite un'opera a lei su internet, io vi assicuro che le mail che vi arrivano sono abbastanza per riuscire a far collassare la configurazione di qualsiasi mail server comune. Da tutto ciò se ne ottengono un sacco di dati che però di per sé hanno pochissimo significato. Per riuscire a trarre conclusioni a livello di cybercrime bisogna riuscire ad aggregare, normalizzare e in particolare correlare questi dati tra di loro attraverso le varie sorgenti e i vari canali di comunicazione da cui si straplano e attraverso i databasi pubblici di dati quali ad esempio sono le blacklist o le blacklist degli ASN cioè del range di P attraverso una comparazione storica e attraverso l'uso di pattern che permette l'automatizzazione di questo lavoro perché altrimenti avrebbe fatto a mano. Ora che abbiamo visto tutti i canali di comunicazione relativi alla messaggistica cioè l'email e l'instant messaging passiamo all'analisi dei binari. Allora come ha detto un altro secondo data source molto importante per questo tipo di monitoring sono i binari sono i malware insomma il veicolo di spreading di questo tipo di threat qua vediamo come poter effettuare una sorta di monitoring sul flusso di attività di questa diffusione di malware quindi cosa utilizziamo? Utilizziamo delle Onipot meno male sappiamo tutti cos'è un Onipot anche se magari in passato la vedevamo una cosa un po' più ad alta interazione ad alto livello in cui si cercava magari di collezionare zero day o attività di questo tipo per questo genere di monitoring a noi interessano due diversi tipi di Onipot le chiamavano Onipot a bassa interazione e a media interazione dopo vedremo cosa vuol dire il concetto principale che il nostro scopo primario è collezionare al maggior numero di malware possibile in modo da poterli analizzare poter correllare i dati prendere le informazioni sul network traffic che genero eccetera eccetera il primo tipo che vediamo sono le Onipot a bassa interazione sono definite così perché chiaramente mettono a disposizione una quantità minima una capability minima di interazione che può essere dall'attacker o dal malware automatico sono tutti i servizi che queste Onipot mettono sulla rete sono emulati per cui non sono servizi veri e propri come poteva essere con Onipot ad alto livello in cui si mettevano servizi reali vulnerabili apposta per farsi infettare diciamo ma sono dei servizi fake in cui tutto il network dialogue durante l'attacco viene completamente replicato e reso finto diciamo quindi sono mascherati come servizi vulnerabili conosciuti non so vulnerabilitari di aerotipo da pro ftpd roba vecchia di rpc e cose di questo tipo e lo scopo comune di questo tipo di Onipot ovviamente è quello di collezionare malware perché emulando il servizio emulando il network dialogue loro si prendono il payload dell'attacco si estrae il deploy del malware e si si dumpa il binario che viene cercato di deployare sulla macchina ci sono tre prodotti principali per deployare questo tipo di Onipot le più famose sono Nepenthes che è un po' datata adesso è ancora una delle più comuni perché è forse la più stabile ormai anche se le sue feature sono un po' limitate di una Ea che è l'evoluzione naturale di Nepenthes sviluppata dalle stesse persone membri di Oninet di Oninet project che bene o male fa le stesse cose di Nepenthes ma aggiunge diverse feature tra cui per esempio un'interfaccia di scripting in python per concludere MW Collect è un prodotto simile in cui mix alcune feature di Nepenthes e di Oninet che è un altro tipo di Onipot di cui non andremo a parlare parlando invece di Onipot a media interazione diciamo che sono una specie di ibrido ossia non sono dei servizi che replicano dei servizi vulnerabili per poter prendere unicamente malware o ex dump del pedo dell'attacco ma offrono una specie di interazione a un livello medio molto spesso per esempio emulano un servizio di SSH servers quindi l'utilizzo è mettere in rete un finto server SSH con password di default per dire per essere brutforsato e identificato subito lo scopo di questo tipo di Onipot è sia per vedere per esempio il tipo di attività che viene fatto durante un attacco tipo molto spesso schematizzate sia raccogliere malware o binari o rootkit o tutto quello che ci può essere utilizzabile nell'ambito unix-based mentre magari le Onipot precedenti come Nepentese di una Ea emulano servizi prettamente Windows per lo scopo di raccogliere malware un tipo di Onipot a media interazione abbastanza carino è Kip che è sviluppato da un simpatico ragazzo finlandese come ho detto prima è un software tra l'altro open source che si può scaricare tranquillamente su Google Code cercate la prima entry lo scopo di questo tipo di Onipot di questo software è quello di raccogliere informazioni sui tipi di attacchi brute force a servizio SSH dump tutta l'interazione che viene fatta dalla shell con l'attacker e in più permette anche di dump appare eventualmente binari che vengono scaricati perché alcuni comandi Unix vengono replicati parzialmente tipo vget in modo da poter ritrovare veramente il binario mentre altri sono replicati in maniera un po' un po' scialba diciamo se per caso alcuni comandi non sono supportati quindi il servizio non è cioè il comando non è emulato o riprodotto viene mandato un errore completamente a caso per esempio cp command not found e la cosa interessante e divertente è che fake ha anche l'exit command per cui quando l'attacker cerca di disconnettersi dal nostro finto server ssh e pensa di tornare sulla sua shell in realtà non torna sulla sua shell ma viene riprontato dentro un altro server ssh per cui questo cercherà di connettersi magari a una lista di p che ha precedente brute forzato e questo continua a connettersi a server ssh e noi ci dampiamo tutti i p user e password di tutti i server ssh a cui cerca di connettersi si 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 no generalmente sono infatti se vai a vedere molto spesso i pattern stessi di tipo di interazione che viene fatta con la shell molto spesso sono dei copy and colla delle soliti cose che trovi su internet le primi comandi sono sempre gli stessi soliti un ex poi fanno il cut proc cpu info e cazzate così e poi si scaricano il solito psa bnc o rootkit o quello che vuoi lo deployano e tanti saluti giusto per farvi dare un'idea ho preso una un esempio abbastanza divertente di una sessione che abbiamo dampato di un attacker che è entrato in questo in questo software era un tipo molto simpatico perché una delle persone più ostinate che abbia mai conosciuto mai visto in vita mia la demo si chiama apt frustration adesso vedrete il perché questa è la shell che viene replicata il digitale dei comandi è riprodotto in tempo reale questo qua è un log ovviamente comincia a cercare di addare agli utenti come ho detto prima molti comandi non sono replicati per cui per esempio viene dato command not found ma puoi specificarlo tu è molto configurabile anche il shell name tutte queste robe qua puoi anche replicare creare nuovi comandi da replicare creare cose carine quale sto provando un po' tutte qua vediamo che fa che fa l'uvget di un targizeta in cui ci sarà un psyb.nc adesso non è infatti un psyb.nc il file viene scaricato effettivamente viene replicato lo spacchettamento del pacchetto però poi ovviamente non viene fatto rannare lo script noi ci siamo presi il nostro targizeta e lui si attacca un po' al cazzo diciamo apt-get è simulato infatti se vedi le versioni dei software che cercano di installare sono completamente a caso anche se tu fai apt-get install su infatti dopo vedrai che farà apt-get install cp cosa a caso lui ti replica a caso sia versione che download e cazzate proprio lui continua a farsi a scaricarsi il psyb.nc sperando di farlo rannare qua non si vede bene quello che gli viene stampato da kippo è una faccia di un soldato imperiale di star wars con tutta la trafila iniziale qua io già mi sarei chiesto ma che cazzo chiudo di sicuro non è una cosa normale mentre queste persone molto intelligenti dicono ma magari ho scaricato il targizeta sbagliato scarichiamolo di nuovo spacchettizziamolo di nuovo e magari funziona infatti lo riscarica di nuovo e dico boh per le segmentation vault ma adesso adesso arriva la parte veramente apt frustration qua c'è un um install nonostante avesse visto l'inizio che era un sistema d'abian cioè proprio ma proviamole tutte anche l'update manager ovviamente replicato dall'apt get ok proviamo senza trattino un'altra volta sarebbe interessante fare anche uno studio psicologico sul tipo di sì di solito sono tutti rumeni più o meno la zona geografica è quella poi c'è anche un simpatico pacchetto che ti permette di correlare informazioni stratte dai log e ti prendi tutti i PIS e le robe varie qua boh lo sposta in users bin non ho capito precisamente perché qua ha fatto una pt guest apt get install cp è tipo boh non gli funziona non gli funziona un cazzo poverino adesso comincerà a impanicarsi attenzione qua c'è il punto critico su command not found allora uno cosa fa ovviamente no c'è ripensato senza sudo installiamo su perché così funzionerà sicuramente lui li installa su non lo so command not found io già mi sarei posto almeno da 15 minuti la domanda ma che cazzo sta facendo sta roba qui ti amo tipo dopo vedere la fine la fine è proprio la piccilleggina sulla torta di questa bella sessione sì sì è una cosa divertente che vedi anche i timing in cui pressa i tasti e c'è un momento in cui sta lì un po' fermo a pensare ma com'è possibile questo è bellissimo lui l'ha capito allora fa un touch di you fucking idiot suck my bolso che cazzo ha scritto suck my bolso ovviamente adesso vedrai che che touch è command not found quindi che cosa fa il nostro amico geniale a pity get install touch no è la cosa più ovvia anche a me sarebbe venuto in mente di fare una cosa di questo tipo e qua termina la sessione ci riprova un'altra volta e poi hai detto basta mi sono rotto i coglioni cancelliamo tutto via questa è finita c'è un'altra demo ah no oh cazzo ok è finita la sessione c'è un altro molto carino in cui fa vedere tutte le connessioni SSH lui ci riprova ci riprova ci riprova ci riprova intanto noi ci siamo presi tutti i server SSH che ha buccato precedentemente ma non si può anche vederlo perché i tempi corrono quindi abbiamo visto questo software molto carino una volta che abbiamo collezionato i nostri binari che possono essere unix based per windows o per qualsiasi altra piattaforma dal nostro feed che sono la nostra rete di onipote distribuite su un po' dove vogliamo i binari vengono mandati dentro un sistema di malware analysis che discriminerà dal traffico a seconda se il traffico IRC o HTTP manderà gli opportuni parametri per deployare monitoring IRC o HTTP nel qual caso nel caso specifico di shadow server dopo vedremo cosa vuol dire meglio noi effettuiamo un'attività di sync calling per tracciare le botte in HTTP diciamo parlando di malware analysis essendo comunque i malware diciamo un po' la base la materia prima di un po' tutto quello che è il treat che c'è in giro ma l'analisi è una parte fondamentale nel ambito specifico del monitoring di botnet di treat in termini generali quello che interessa veramente a noi non è tanto quello che fa sul sistema operativo perché bene o male ce ne sbatte niente ma è l'attività di rete ovviamente per poter risalire a parametri di connessione a botnet IRC o a request polling verso botnet attacca HTTP generalmente questo viene fatto con sandbox pubbliche o commerciali come CV Sandbox e Joebox dopo vi invito a seguire il talk successivo mio in cui parleremo anche di questi bei prodottini non sono veramente una gran genialata di software noi nel caso specifico utilizziamo una sandbox custom che ho sviluppato durante il Google Summer of Code che presto avrà rilasciato open source e nel qual caso vi segnalerò dove scaricarlo dato che anche non dovendosi sbattere troppo il nostro interesse è sempre quello di prendere l'attività di network possiamo tranquillamente rannare il nostro binario dentro un virtual box o VMware con sotto un TCP dump nell'host e con un NGREP filtrare il traffico e prenderci i parametri che ci interessano una volta che abbiamo preso questi questi parametri li mandiamo dentro al nostro infrastruttura di monitoring come abbiamo visto prima partendo da IRC come abbiamo detto durante l'esecuzione del malware tiriamo fuori i dati di connessione al server IRC al CNC IRC in questo caso c'è un esempio di dump di traffico di una connessione a una botnet tra l'altro italiana di tipi molto simpatici con cui ho anche avuto l'onore di parlarci e boh qualche dato interessante vedere per esempio qua al join c'è il topic in cui specifica di lanciare uno scan su vulnerabilità di com135 questo è il numero di secondi e i vari parametri per lo scan questi qua sono due tizi italiani se vi invito a cercare il canale lo troverete sicuramente su google quindi noi cosa facciamo con questi parametri noi prendiamo i P e port del server CNC poi prendiamo i vari parametri di connessione che mandano in outbound della connessione alla botnet li prendiamo li infichiamo dentro un drone IRC che replica l'attività di un bot di una botnet in realtà non fa un cazzo sta lì dentro il channel IRC a guardarsi cosa succede e questo nel guardare un po' tutto il traffico che passa spara dentro i dati dentro un database che possiamo poi utilizzare per correlare per esempio con i dati che ha detto Jacky prima su spam e vari tipi di cose un dato interessante in shadow server noi giornalmente giornalmente specifico solo per zombie relativi a protocollo IRC identifichiamo circa 100.000 zombie provenienti dall'Italia ovviamente questo è un dato limitato perché non è come non tiriamo tutte le botnet della terra anzi se ci va bene non tireremo non so un 50% e nonostante questo il volume di traffico dell'Italia vedremo anche dopo verso la fine è piuttosto carico questo è un grafico in cui ci fa vedere un po' nell'arco dell'ultima settimana scorso il counter degli zombie provenienti dall'Italia vediamo che siamo sempre tra i 96.000 e arriviamo anche i 130.000 giornalieri unici e sono tanti qualche esempio di botnet questo si chiama fucking non è un'uffesa ma è il canale che si chiama fucking come possiamo vedere le botnet di RC stanno anche un po' perdendo il trend perché vabbè passa tutto in chiaro non si sbattono troppo a incrittare con SSL o cazzate così perché come dicevamo molto spesso i bot utilizzati proprio a livello software per deployare questo genere di botnet sono la copia della copia della copia della copia della copia di un Agobot di 2002 trovati con i sorgenti su Pirate Bay per cui insomma non è che si sbattono più di tanto loro interessa deployare in fretta più quanto possono infatti vediamo DDoS che è il bot master di questa botnet specifica si logga con password sex per cui noi siamo dentro il channel della botnet noi vediamo la password di login per prendersi i privilegi di esecuzione sugli zombie e di lì sta poco poi decidere che cazzo ci vogliono fare insomma possiamo undercoverare la botnet e vediamo insomma si può anche distruggere fare un irish destroy e distruggere tutti gli zombie sulle macchine compromesse qua comincia a lanciare un po' di DDoS all'inizio fa un po' di cmp flooding il secondo parametro sono il numero di secondi per cui devi floodare nel secondo caso fa un un sim flooding e qua vediamo per esempio un download di un altro X considerate che molto spesso su una singola macchina compromessa non viene rannato un solo zombie per condentarsi a una sola botnet molto spesso i singoli CNC command and control di una singola botnet sono utilizzati per task specifici che possono essere non so di DDoS click fraud scanning e quello che vuoi insomma per cui cosa fanno loro scaricano fanno installare 10 zombie 10 bot sulla macchina compromessa si collegano a 10 bot e sono diverse e fanno diversi task contemporaneamente in questo caso specifico i l'IP sono censurati perché vabbè insomma per stare un po' un po' paraculati però in questo caso specifico stanno addossando dei servizi di compagnie abbastanza conosciute che offrono prodotti di anti di DDoS per cui insomma quindi noi cosa facciamo dato che abbiamo i nostri droni che sono lì a monitorare il traffico all'interno del channel della botnet è interessante anche quello che fanno attivamente per cui una cosa da fare nel nostro infrastruttura di monitoring che stiamo spiegando in questo talk è prendere dei pattern matchare i comandi che vengono eseguiti prendere i dati di target di DOS o di urle di robe da scaricare cose così e mandarlo dentro al nostro database e continuare a fare correlazione con altri dati da onnipot da spam e qualcosa il fulcro dell'idea è di creare un'infrastruttura di monico incompleta è il valore in più che può dare tutta la correlazione di questi dati chiaramente può dare una view su di intelligence su tutto il landscape che può essere italiano o internazionale o di un singolo gruppo o di un singolo SN o di una singola persona ad ampio spettro perché non è che uno è specializzato a fare solo questo o solo quest'altro per guadagnare più soldi si fa un po' di tutto ci si prostituisce un po' in qualsiasi maniera questo è un altro esempio di botnet molto interessante che monitoravamo un po' di tempo fa verso aprile e maggio di quest'anno questa botnet per esempio si occupa solamente di scannare e exploitare macchine con servizi UNC vulnerabili o con password di default e deployare il nostro lore malware insomma e i volumi sono importanti come vediamo qua in circa 20 giorni di monitoring perché bisogna anche considerare che il monitoring di una botnet non è che può tirare avanti all'infinito per due motivi il primo è che molto spesso le botnet hanno un life cycle molto preciso di solito durano tra massimo due o tre mesi poi vengono terminate o spostate ad altre sedi in circa 20 giorni di monitoring abbiamo collezionato più o meno un 10.000 parametri di connessione a macchine WNC compromesse e sono tanti siamo sulla media degli 800 al giorno più o meno qua vediamo che ce ne sono alcuni alcuni bot che sono dedicati a scannare a fare regi scan su classi interi di IP e poi ci sono quelli sotto che craccano e printano in canale liberamente IP poi c'è la password in chiaro e insomma noi ci siamo dampati un po' tutto quanto chiaramente con le ottime intenzioni questo non ha risvolte negativi ma pensate anche a un malicious user magari qualcuno di voi è tipo lui un malicious user anche lo stesso utilizzo di fare ad IRC drone per cui monitorare altri botnet di altre persone non è una cazzata cioè se io mi metto a infiltrarmi una botnet di un altro competitor diciamo e mi vedo tutta questa marmalla di roba e io mi foto tutto un altro paio di dati questa qua è sempre relativa alla botnet precedente questa qua è la top 5 abbiamo fatto un look up degli IP che sono stati compromessi e abbiamo visto un po' dove erano geolocalizzati nella top 5 abbiamo Italia Germania Francia Spagna e USA vediamo che l'Italia ha una sua bella fetta diciamo un'altra cosa interessante è che oltre a un enorme numero di end user o di mac poco interessanti si trovano anche cose piuttosto importanti società di telecom cisp università ministeri network di interricerca universitaria tipo l'unigar però non l'ha detto nessuno e global companies da Amazon da Godad di cose di questo tipo un altro tipo di protocollo da monitorare HTTP che è un po' il trend che sta andando avanti un po' per la maggiore in questi ultimi due anni il problema del monitorare le bot in HTTP che non è un po' come IRC in cui bene o male anche se i server IRC sono moddati il protocollo è più o meno compliant per cui monitorarlo non è troppo difficile nel caso di bot in HTTP ognuno ogni singolo tipo di bot che possa essere spy AI Zeus o config o quel cazzo che l'è usa dei suoi pattern di comunicazione specifici uno può viaggiare in chiaro uno può encodare in B64 uno può exorare e fare cose strane e chiaramente questo complica l'attività di monitoring perché per poter monitorare tutti i diversi tipi di pattern vuol dire che uno deve creare tanti diversi tipi di template per ciascun tipo di bot che possiamo monitorare e questa è abbastanza una rottura di palle quindi un altro approccio differente che non è proprio monitorare l'attività della botnet in sé ma è monitorare i volumi di traffico di queste botnet che ttp e quello che in solo server chiamano sync call sync calling si tratta semplicemente di collaborare con i vari domain registrars presso cui i vari malicious user registrano i loro domini per deployare le botnet che ttp consegnarli le prove oggettive del fatto che ci sono domini utilizzati per questo tipo di attività illegali e cooperare con questi registrar per far puntare i domini malevoli verso una nostra darknet ossia una rete che sta lì e non fa un cazzo cos'è la cosa carina di questo tipo di approccio è che in questo modo noi ridirigendo il traffico che magari doveva essere non so in Pakistan lo mandiamo sulla nostra macchina quindi tutta l'attività tutti i polling che vengono mandate tutte le richieste che vengono mandate da tutti i bot appartenenti a quella botnet vengono redirette a noi questo ci può portare a diversi tipi di sviluppi innanzitutto vedere quali sono le dimensioni oggettive di questa botnet se ci arrivano non so 300.000 richieste al giorno di quella botnet vuol dire che è una cosa abbastanza grossa e quindi vanno presi i provvedimenti e anche geolocalizzare quali sono tutti i bot compromessi le macchine compromesse appartenenti a questa botnet e procedere con dell'attività remediation se è possibile su una base giornaliera in shadow server in attività di sync calling per cui di botnet HTTP dagli 1 e 2 milioni di richieste uniche al giorno provenienti dalla Cina sulle 500.000 richieste uniche provenienti dall'India e sulle 200 250.000 provenienti dall'Italia la cosa che fa un po' riflettere è il fatto che l'Italia tra il terzo e il quarto posto se la contende un po' con le USA in termini di infection rate di traffico malevolo che viene dalle nostre macchine insomma e questo insomma vedremo poi in termini di proporzioni di popolazione fa pensare ma che cazzo è sta cosa probabilmente sono tutti ancora a cliccare britannyspearsenaked.jpeg.ex e non è una cosa da fare chiaramente questo è un grafico come quelli precedenti in cui vediamo nell'arco della settimana scorsa il zombie count di HTTP provenienti dall'Italia vediamo che si aggiorano sempre 350.000 200.000 l'ultima settimana è stato un po' più in ribasso saranno le ferie non lo so quindi adesso abbiamo cos'è la risposta da parte di tutti i vari gruppi che si occupano di questo tipo di monitoring allora la risposta a queste minacce è fatta da varie allums e varie parti commerciali e in principale sono Project Honeypot che praticamente attraverso un'infrastruttura di spam trap solo spam trap e non per lei si occupa del tracking dello spam spam house che pure lei si occupa del tracking solo dello spam e di fornire delle RBL chi di voi gestisce un server disposto lo sa benissimo Phish Tank che si occupa non solo di spam ma anche del phishing cioè si occupa di capire il target della singola mail Shadow Server di cui ho parlato prima Claudio che si occupa dell'analisi dei malware e del tracking delle botnet di vario tipo e Tim Simiru che è un analogo di Shadow Server e si occupa anche loro di analisi di malware e tracking delle botnet ok grazie sì perché vuol dire Galles se non sbaglio esatto è un sacco di parti commerciali che si occupano di vendere servizi relativi al tracking tutto questo attraverso infrastrutture chiuse molto difficili da customizzare perché spesso partono dal piccolo script per il monitoraggio della singola minaccia e mano a mano crescono in modo assolutamente disordinato e assolutamente non organizzato a comporre un'infrastruttura complessa articolata difficilissima da mantenere ad esempio provate a pensare che tante di queste sono semplicemente un ammasso di script perle disorganizzati tutto questo in modo chiuso alla gran parte degli utenti finali aperto solo a certe organizzazioni e tutto questo solamente grazie a una collaborazione massiva degli inter-service provider perché altrimenti le cose tipo il sync calling o le darknet senza una collaborazione dagli SP non ve la fate cioè ve la fate solo per la vostra piccola ASN cioè il vostro range di IP che è allocato a voi di cosa ci occupiamo invece noi noi abbiamo sviluppato e stiamo ancora sviluppando attualmente è in testing in fase alfa un'infrastruttura completa per il monitoraggio delle attività prettamente italiana in cui abbiamo implementato cercando di farlo in modo organizzato e utilizzando le best practice di sviluppo correnti un'infrastruttura per il monitoraggio del cybercrime che ha come target l'Italia tutto questo collaborando con varie organizzazioni in particolare con Shadow Server con cui scambiamo dei dati relativi alle minacce che ci sono in Italia noi abbiamo finito se ci sono domande vogliamo darvi un piccolo hint alla discussione si è come stavamo dicendo prima il punto in cui ci piacerebbe magari anche in separata sede tirare fuori magari anche un piccolo dibattito per identificare quali sono i motivi per la nostra situazione disastrata effettivamente parlando di quantità di infection rate di traffico malevolo che arriva dal nostro paese facciamo un raffronto un po' con gli altri paesi che sono nella top 4 come abbiamo detto prima che cazzo se vediamo tipo Cina, India e Stati Uniti che hanno un miliardo un miliardo 300 milioni di abitanti di popolazione mentre noi abbiamo 60 milioni e vediamo la fetta di traffico malevolo assoluto e vediamo che l'Italia in rispetto in parallelo alla quantità di popolazione è molto sopra la soglia rispetto agli altri paesi in termini di proporzioni questo deve avere un motivo di fondo il problema è identificare quale e poter mettere in piano almeno un'idea di remediation per poter mitigare questo tipo di situazione questo sarebbe un discorso molto interessante nel caso se volete possiamo parlarne in appartati non credo ci sia abbastanza tempo se avete domande siamo a disposizione altrimenti ciao grazie 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 grazie